Maria Cappellino Revisore Qual è l'origine della felicità? Alcuni ricercatori se lo sono chiesto e hanno scoperto che la cosa fondamentale è avere delle buone relazioni sociali, una salute fisica ed emotiva. E la scuola ha un ruolo molto importante nel crescere un adulto soddisfatto. Voi lo immaginavate? Io no, pensavo che fosse la famiglia la cosa più importante. E invece le cose stanno cambiando. Voglio raccontarvi la storia di mio nipote, che si chiama Mattia. A tre anni lui cercava sullo smartphone di suo papà i video che voleva vedere e anche i giochini. Usava la ricerca vocale perché la sorella si era stufata di aiutarlo. Qualche mese fa è andato a scuola, ha iniziato la prima elementare. E ha fatto un viaggio nel tempo, perché si è trovato nell'aula esattamente uguale a quella dei suoi genitori. Si è seduto e la mattinata è trascorsa abbastanza bene, fino a quando l'insegnante ha detto «Bene bambini, ci vediamo domani». A quel punto Mattia è esclamato «Fermi tutti, perché domani devo tornare qui?». Ai bambini diciamo che devono mangiare i broccoli, perché gli fanno bene. Allo stesso modo gli diciamo che devono stare seduti, ascoltare quello che gli viene detto, perché un giorno gli sarà utile. Eppure il dibattito internazionale ci dice cose diverse. Ci parla di apprendimento connesso, ci dice che bisogna partire dalle passioni, che bisogna farli lavorare fra di loro e basarsi su problemi concreti. Il gioco fa un po' questo, si parte da problemi complessi che non sappiamo come risolvere. E poi si possono, in questo senso, si può usare l'approccio dei videogiochi a scuola, per esempio cambiando il modo di fare lezioni, organizzando delle missioni che possono essere a loro volta suddivise in piccole attività di ricerca. Oppure più semplicemente cominciare con un approccio più semplice, usando per esempio dei quiz temporizzati, per gamificare la lezione. Perché è scientificamente dimostrato che rispondere in gara con altri produce un apprendimento migliore, perché il gioco ci dà un incentivo a raggiungere l'obiettivo. Lo sappiamo per esperienza che per giocare bisogna impegnarsi molto, ma è quello che ci dà soddisfazione, la fatica, lo sforzo, l'impegno e la concentrazione. Per questo non sto dicendo che la scuola debba diventare un Luna Park. Giocare significa mettere in atto delle strategie, procedere per errori e tentativi, ma non vuol dire che sbagliare sia un problema. Si cresce attraverso gli errori, si procede al proprio ritmo e si vedono i risultati del proprio miglioramento. A lei Sandra è una bambina di 12 anni, anche lei è mia nipote, e fa la seconda media e a 5 anni usava già il computer del papà. Però è andata all'elementare e queste competenze non le sono servite a nulla, perché per 5 anni non hanno mai visto un computer a scuola. Adesso fa la seconda media e in classe c'è una LIM, una lavagna interattiva. Però i professori non sono molto abituati ad usarla e poi hanno anche dei problemi tecnici perché la connessione in rete non sempre funziona bene. Quest'anno però la professoressa gli ha detto che useranno i videogiochi in classe, ma non quelli che ha sul telefonino. Il videogioco dovranno progettarselo loro. La maestra è entrata in un programma che si chiama Programmo Anch'io, che aiuta appunto le classi ad avvicinarsi a questo tipo di linguaggio. Programmo Anch'io è un'iniziativa di scuola, una comunità di insegnanti che ho contribuito a crescere un po' di anni fa. Lo slogan è Le scuole per le scuole, perché crediamo nella condivisione della conoscenza. E lo facciamo appunto proponendo questi strumenti, come il linguaggio Scratch, che è stato inventato all'MIT, per favorire la creatività. E anche organizziamo un festival nazionale per videogiochi sviluppati a scuola. Marcello Bozzi è uno di questi professori di questa comunità, insegna qui a Lugliasco, all'Istituto Magliorana, e crede che i videogiochi siano il linguaggio che ci permette di metterci nei panni dei nostri ragazzi. Lui voleva affrontare in classe il problema dei migranti siriani che vengono in Europa per trovare un futuro migliore. Un argomento un po' difficile, che poteva risultare un po' magari affrontato superficialmente. Così ha pensato di far progettare ai suoi allievi un videogioco. Il videogioco si chiama Il Viaggio ed è un gioco a squadre in cui ogni squadra è una famiglia in cui deve decidere se portarsi dietro una foto o un paio di scarpe. Immaginate come appunto questo possa aver aumentato il coinvolgimento dei ragazzi e li abbia aiutati davvero, questa volta loro, a mettersi nei panni di qualcun altro e a sviluppare un pensiero critico e una maggiore consapevolezza. L'ultima storia che vi voglio raccontare è quella di Lorenzo. Questo non è mio nipote. Frequenta la quarta superiore e sta facendo un corso per imparare Unity. Unity è uno dei linguaggi professionali per sviluppare videogiochi. Lui vorrebbe lavorare in quel settore. Quindi quando il suo insegnante gli ha detto che quest'anno avrebbe partecipato a una game jam nell'arco dell'alternanza scuola-lavoro, non si è lasciato scappare all'opportunità. Le game jam sono delle maratone di sviluppo di videogiochi in cui sviluppatori, game designer, sound designer, artisti, ma anche non professionisti, studenti, si ritrovano in un weekend e sviluppano un prototipo di gioco su un tema dato. Lo fanno per passione, perché gli piace. Le game jam permettono appunto di sviluppare alcune abilità, come lavorare insieme, con persone che non si conoscono, con una pressione legata al fatto che devono produrre un risultato in un tempo breve con delle risorse limitate. Devono ridefinire il problema, fare brainstorming. Ed è uno sforzo anche impegnativo sul piano fisico, perché devono lavorare ininterrottamente per due giorni e due notti. Però lo fanno tutti nello stesso spazio e questo crea un senso di comunità e di condivisione. Per questo penso che un approccio di questo tipo possa essere utile anche a scuola, perché non sappiamo ancora come sarà la scuola del ventunesimo secolo. Forse non ci saranno più i voti, forse non cambieranno le scansioni dei tempi e degli spazi, forse ci saranno delle materie diverse, ci saranno delle materie meno, perché forse studiamo troppe cose, ci saranno dei corsi più astratti. Un esempio, per esempio, è quello di fare delle sfide, dare dei ragazzi dei progetti che possono sviluppare in modo autonomo con un piccolo budget, perché magari vogliono fare delle esperienze. Il lavoro di domani non sappiamo come sarà, forse sarà meno ripetitivo, sarà meno faticoso, però serviranno abilità diverse, servirà empatia, capacità di comunicare con persone con una cultura diversa dalla nostra, saper collaborare, analizzare problemi e prendere decisioni. I videogiochi forse in questo possono aiutarci, ed è compito degli insegnanti svelare ai ragazzi che attraverso questi sistemi possono sviluppare queste competenze, perché l'importante è che la scuola deve dare motivazione e ottimismo ai ragazzi perché credano nelle loro capacità e non abbiano patura di affrontare un futuro troppo difficile per loro. Ma ancora più importante è che lo facciano per tutti, perché, come abbiamo visto, la scuola è fondamentale per il benessere degli adulti. Ed è per questo che Matteo domani tornerà a scuola. Grazie. 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 Grazie.